Oggi siamo qui in questo nuovo video, allora, perché, allora, vi consiglio di seguirmi in questo nuovo canale perché ho fatto i backup e quindi mi ha levato YouTube, allora, quindi seguiti su Marcamato, Marcamato, l'altro, se cercate un altro Marcamato, l'ho zero iscritti, va bene, questo video lo volevo fare perché, allora, perché Guarda, ci sono un sacco di macchine, prima c'era una bomba di musica, ora, ora vedete quante macchine Sono qua nel mio lido, questa macchina, poi arriva il più bello, arriva il più bello, è qua, perché poi è anche nel parcheggio Qua ci sono tutte le macchine E qua c'è una macchina bellissima Un sacco di motori, bellissima Ora andiamo A vedere le altre macchine Prima c'era una musica bomba Ora non c'è più niente, va bene Allora, incominciamo dalla prima macchina Questa qua Che c'è un sacco di motori Sta ricominciando la musica A non c'è tutte le macchine, però io ve le faccio vedere lo stesso Bellissimo Spero che vedete Bellissimo Questa qua Guardate quanti ce le sono Bellissima Ecco questa qua Mamma mia Questa qua rossa Com'è Combinata Troppo bella Per questo Questa qua Un'altra di questo pezzo Questa qui è chiusa Questa qui è aperta Bellissima Pure questa bellissima Ora passiamo Per di qua Bellissima macchina Poi ci sono tutte chiuse Ci sono tutte chiuse Tranne questa Spero che si veda Eccola qua Là E poi tutte le macchine sono chiuse Allora Io spero che questo video vi sia piaciuto E' piccolo Si lo so Però 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 Vi ho fatto vedere tutte le più bellezze Che potevo vedere Ora sta ricominciando la musica Ma Si sente Cioè Iscrivetevi a questo nuovo canale Eh A questo nuovo canale Perché Non funziona più Quello c'è tipo Non lo posso riprenderò più Oppure lo riprenderò Lo riprenderò E vabbè Ci vediamo Ciao ragazzi Ciao L'ultima macchina Quella di prima Ecco questa macchina Stava Bellissimo Bene ragazzi